Ciao a tutti, amici ben ritrovati, siamo qui con Noemi Signorile. Ciao! Allora, oggi siete venuti qua sicuramente magari con qualche aspettativa di più, invece un 3-0 sicuramente non soddisfacente. Cos'è mancato oggi a Ornavasso, questa sera? Ma più che altro arrivavamo qui sperando di fare meglio, soprattutto l'ultimo set, perché comunque gli altri due abbiamo lottato, abbiamo sempre lottato e l'ultimo set invece ci siamo proprio lasciati andare. Bus ha giocato bene, noi abbiamo peccato un po' di inesperienza su molte situazioni, però speriamo di rifarci prossimamente. Che cosa manca nei settori per crescere ancora un po' a questa squadra? Ma più che altro dobbiamo un attimo amalgamarci, ci sono stati tanti problemi in questo periodo con la società, quindi dobbiamo un attimo riprendere il filo alla retta via diciamo. Ok, grazie e in bocca al lupo per il proseguo. Prego, Crepi, ciao!